Sono partito da San Casciano per andare a cercare dei funghi e sono andato qui vicino in località Scopeti. Come sono arrivato là con la macchina, parcheggiato la macchina, accanto alla sua perché ho visto questa tenda di francesi e questa macchina, che la macchina, mi ricordo benissimo, era uguale, identica alla mia. Trucando fra questi po' di cespugli c'erano questi bidoni di vernice e di cui sotto a questi bidoni di vernice si vedeva un corpo di una persona straziata, molto. Ho guardato bene la macchina, cosa c'era dentro la macchina. Ho guardato nella macchina e ho visto che dentro la macchina c'era un seggiolino di un bambino. C'era sopra il seggiolino del bambino c'erano due spighe di gran turco.